L'unico di antiche miei, che sta con pari e sta in guarda Quando affetta è un po' il segnozzo, che sto messo in avanti Le dico la sprega, scorsi la bra, sbandonarsi E poi passi, 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 spiegandone, dai a casa Ma dai, qua, 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 qua Ma perché la fubizia, in che ha credito c'è E io, che dove di cuore, dove di cuore, e fra me Sarà che, che ti dice alleanza, dove un po' che ti stufa E sbaglio, ma che sfida di me, sto troverò tu la russia Ma che riperi, che tu m'ho rubato E poi passi, a me, adatti, e sei vicolo, e un catastre Beh va a casa dai cadavarmi E uno spazio in cui mi cresce stessa E a capo non dici, due o non, ma lo stesso interesse Usi italiani, si parli, non voglio, non mi spieghiese Perché non mi spieghiese, perché non mi spieghiese E qua, 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 qua La strada, qua, 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 qua La strada, qua, 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 qua E mangiate, sono le mangiate Non sto stai da piatti, su queste storie di con la mia coppia condolgo guarda spaccato dopo che ho comprato in un'unica strada del Rosario se non fosse perché io fossero scrivendo di roba via giù ad essere un paese di montagna e parte i piedi si vede a uscire e pensavo io che mi mi dà spazio in Italia il Rablade fu un retto da un'unica le comandate che scontrano le punibole Babio all'arriamo e sparano mi sono ritocato a Camomaglio prima di Gatti e dopo basta sono conquistati ma sono più insubitati come un mondo di città scriviamo i lettori di Tamerò con i nostri sei furlani importante quello quante con le sue culturali cristiani dal medio avevo abbandonate anche la prima che avevo usate e le mani a mangiare e le mani a mangiare e ciò sarà fondate e il sangue entrerà un piano tante storie per bastare io sono un amico e il cristone non sta contando in te io sono un amico e il cristone io sono un amico e il cristone il paura da me e noi io sono un amico e il cristone io sono un amico e il cristone io sono un amico e il cristone voce Buongiorno a tutti La musica non vada persa, perché le scuole insegnano ai giovani qualcosa che la nostra vecchia musica, la nostra vecchia storia, perché non si ripetano con niente le guerre di un tempo, perché chi ha le proprie radici riesce a dialogare con chi ha altre radici, perché ogni guerra è una cosa veramente inutile. Grazie.